I nostri casi di borsa. Oggi analizziamo proprio il titolo BS. Ogni settimana con Andrea Cartisano dedichiamo questo spazio di analisi fondamentali a dei titoli, ovviamente a delle società sotto i riflettori per motivi differenti. Naturalmente ricordiamo BS Group, una multinazionale italiana che opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinate alla lavorazione di legno, vetro, pietra, materiale avanzati e metallo. Ora al di là di questa spiegazione velocissima da parte mia lascio a te la parola invitando i nostri amici a segnalarci eventuali altre società che volessero analizzare. Prego Andrea. Allora ho voluto portare BS come caso della settimana perché nonostante il titolo sia ancora sui massimi e parliamo di un titolo che comunque un anno fa, poco più di un anno fa, era arrivato a 6,62,5 di minimo il 16 di marzo e oggi abbiamo toccato un massimo di breve periodo a 26,96. Poi ovviamente i super tifosi perché ci sono anche in borsa ed è l'errore più grosso che uno possa fare di essere un'ultra di un titolo, però addirittura potrebbero dirmi che nel marzo 2018 era arrivata a 53,75. Però noi qui siamo per analizzare come si suol dire numeri alla mano. Il fatturato è passato da 705 milioni, 706 quasi, a poco meno di 579. C'è stato un calo del 27%, in questo caso era del 18, sull'Ebida da 76,73 a 56 milioni e soprattutto l'utile netto è crollato a 2,46 milioni rispetto ai 13 milioni del 2019. Posizione finanziaria netta è l'unico aspetto veramente positivo, sicuramente non ho avuto e me ne scuso quei telespettatori il tempo di andare a verificare le singole voci, risulta cassa positiva per 49,5 milioni, però sinceramente mi suona un po' strano. Però quello che più conta, invito a farlo tutte le settimane, è che il titolo capitalizza quasi 732 milioni. Con l'utile 2020, significherebbe, l'ho fatto prima velocemente con la calcolatrice per non rubare troppo tempo a questo blocco, significa un price earning di 297. Ecco, un price earning di 297 neanche i titoli del Nasdaq tra poco, quindi cosa significa? Che è vero che presumibilmente aumenterà la redditività nel 2021, però anche se portasse l'utile a 10 milioni, comunque varrebbe lo stesso più di 70 volte gli utili. Quindi che cosa volevo significare con questa analisi? Che ci sono, questo è il caso forse più clamoroso, tantissime realtà che a mio avviso il mercato ha già ampiamente prezzato, per cui nonostante le aperture, le riaperture favoriranno sicuramente un ritorno del PIL in crescita, magari secondo me meno di quanto previsto, però sicuramente visti i lockdown precedenti avremo dei miglioramenti sicuramente significativi, però in molte società quotate sono già assolutamente scontati nei prezzi. Quindi il problema di base in questa fase di mercato è che dobbiamo prestare particolare attenzione alla, chiamiamola sopravvalutazione di molte aziende rispetto ai numeri che noi abbiamo a disposizione e che secondo me non saranno così migliorativi almeno nel 2021. Ok, perché appunto, come hai detto tu, nel caso DBS è già stato prezzato, insomma, il mercato è già apprezzato e quindi poco cambierà. Posso dire, oserei dire ampiamente. Ampiamente, ecco, ok, chiarissimo, questo potrebbe valere per altre società, no no, il concetto è assolutamente importante proprio perché ci troviamo di fronte a una cambiamento, a una svolta proprio per le riaperture e quindi si comincia a ragionare su come le varie società potranno reagire di fronte a questo. Ottimo, invito ancora i nostri amici a scriverci, a segnalarci società come spesso fate che volete analizzare da un punto di vista fondamentale.